Può bastare una grande compattezza difensiva, un solo squillo davanti, questo è bastato per vincere la partita. Una partita vivace in cui non sono mancate le occasioni da gol, entrambe le squadre ce l'hanno messa tutta per avere la meglio sugli avversari. Lo stadio si svuota, ce la diamo anche noi, grazie davvero di cuore, grazie Luca e anche la parte di Piano Gipano. Grazie a tutti.